Ciao a tutti e rieccomi. Allora, oggi facciamo un tramonto su delle colline lontane e praticamente il tema di questo dipinto sarà la prospettiva aerea. Quindi la prospettiva aerea è una forma di prospettiva abbastanza semplice, è più che altro visiva, nel senso che praticamente io cerco di rendere la distanza, la lontananza, sfocando i colori più lontani, cioè i soggetti più lontani e invece acutizzando quelli più vicini. Cioè, vi spiego meglio, le colline più lontane in questo caso si vedranno sempre peggio, il colore sarà sempre più tenue e viceversa mano a mano che ci avviciniamo all'osservatore aumenteranno i particolari, si vedranno meglio, i colori saranno più nitidi e quindi questo alla fine ci darà l'idea della distanza di questi elementi, quindi darà tridimensionalità al tutto. Quindi ho fatto un disegno di massima con questi quattro strati di colline ci ho messo, nello strato più vicino ho inserito un gruppo di cipressi e un po' di vegetazione. Alleggerisco un po' il segno dell'ultima collina più lontana perché andandoci sopra poi uno strato molto chiaro stonerebbe molto la linea troppo scura di matita, quindi l'ho un po' alleggerita in modo che alla fine non si veda. Però io devo ricordarmi dov'è ovviamente. Quindi adesso preparo un colore aranciato perché questo è un tramonto, è un tramonto abbastanza colorato per cui vado a bagnare l'area prima di stendere il colore perché questo mi garantisce diciamo meno tribolazione diciamo. Io vado a stendere il colore in questo modo evito che rimangano i segni delle pennellate, è un'area abbastanza ampia per cui mi conviene fare così. Scendo anche sotto la linea delle colline, non solamente sul cielo perché e perché appunto se no asciugandosi e andandoci poi sopra con altre tinte verrebbero fuori dei bordi troppo duri e veramente bruttissimi. Invece io in questo modo dopo non faccio altro che sovrapporre i colori però a quel punto l'effetto sarà più naturale, tanto ora lo vedrete. Quindi asciugo perché se no non posso fare nient'altro e niente vado a preparare la prossima tinta che sono le colline quelle un po' più lontane quindi sempre un colore aranciato perché ripeto sempre che questo effetto è dalla prospettiva aerea. Queste colline sono investite dalla luce del sole e comunque il colore è abbastanza appunto sfocato, abbastanza tenue. Ora quando si asciuga si vedrà meglio. Anche qui sfumo sempre per il motivo che ho detto prima e essendo un lavoro abbastanza piccolo chiaramente o asciugo col phon oppure vado a fare aree che non sono confinanti tra loro perché se no i colori si mischierebbero. Quindi vado a comporre un verde per fare la parte più vicina all'osservatore per il primo piano, anzi faccio diversi verdi perché via via inserisco nuovi colori nel verde originario e lascio che si mischino sulla carta. Quindi continuo a inserire appunto nuovi colori, preparo un marrone e un verde un po' più scuro per fare la collina retrostante al primo piano e in questo caso ho preparato due colori perché li stenderò a vicenda uno vicino all'altro abbastanza liquidi e questi colori finiranno per mischiarsi sul foglio questo è uno dei lati più divertenti dell'acquarello. Il colore è steso in maniera abbastanza fluida senza tirarlo troppo tende a mischiarsi col vicino in maniera abbastanza anche originale anche imprevista, è quello no? Anche il bello. E posso inserire anche dei colori successivamente mentre il colore è ancora bagnato per creare questi effetti naturali perché poi il colore si continuerà a allargare finché non si è asciugato e appunto darà un aspetto molto naturale. Quindi continuo a inserire degli inserti marroni appunto e le linee si allargano non appena vengono posate sul foglio perché il colore sotto è ancora bagnato e il colore che vado a mettere sopra si allarga. Ecco, di nuovo un'asciugatina col fondo se no non potrei andare oltre visto che è tutto più o meno vicino Ecco, attenzione quando toccate la carta d'acquarello con le dita io generalmente la tocco col dorso delle mani, in questo caso l'ho toccata col polpastrelli però molto velocemente perché se no si rischia che si tocca col polpastrello e si unge il foglio poi non ci attacca più il colore. Ecco, vado avanti e continuo a fare la collina ancora dietro perché era quella che mancava. Praticamente potete notare che la collina più lontana è quella più chiara poi a mano a mano che ci si avvicina al primo piano il colore aumenta aumenta la varietà aumentano i particolari perché ora poi scurerò anche quella al primo piano ancora non si vede ma e quindi vedete che a mano a mano diventa sempre più ben visibile quindi preparo un bel verde scuro un bel verde da cipresso e mi accingo a fare i cipressi allora per fare i cipressi c'è questa tecnica molto semplice che consiste nell'appoggiare la punta poi premere forte e rilasciare quindi praticamente si creerà questa forma un po' svasata diciamo che dà appunto l'aspetto del cipresso poi vabbè si rifinisce e poi comincio a mettere un po' di vegetazione sempre con lo stesso verde qui faccio un po' di pennello a secco per dare appunto l'idea degli alberi lontani e della vegetazione un po' disordinata come si vede spesso in campagna almeno dalle mie parti qui è molto selvaggia la natura ecco anche qui vado a stendere sempre un verde scuro però continuo a inserire sempre altri colori o l'ocra o il marrone terra d'ombra, terra di siena appunto per variare al massimo l'effetto e qui ci faccio anche un po' una velatura di ocra gialla per dare un aspetto ancora più naturale ecco stesso discorso aumento un po' i particolari anche della collina retrostante al primo piano e poi quelle dietro possono stare anche così da più o meno ecco allora mi sono accorta che una volta asciugato il cielo e le colline più lontane sono un pochino troppo chiare per i miei gusti non era l'effetto che volevo quindi vado a preparare un altro arancione e lo vado a stendere soprattutto quindi faccio proprio una velatura quella che si chiama velatura e praticamente con questo strato cambio colore cambio tono e cambio colore a quello che c'era sotto però si continua ancora a vedere vedete si continua a vedere la sagoma in trasparenza adesso col pennello asciutto e strizzato vado a sportare un pochettino di colore bagnato il pennello deve essere strizzato assolutamente perché se io metto acqua in questo momento col cielo ancora bagnato si creano delle macchie orribili quindi questo non vorrei ecco vedete in questo modo riappare il colore che c'era sotto e questo non mi dispiace come effetto quindi qualche altra rifinitura insomma proprio ecco è finito vedete è un lavoro molto semplice alla fine è stato anche abbastanza veloce allora se vi è piaciuto mettete il like come al solito e se vi iscrivete al canale mi spingete a fare sempre meglio spero e io vi ringrazio alla prossima ciao 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 ciao